E' stata presentata la previsione di bilancio 2020-2022 del Comune di Palermo tra i punti cardine attenzione alla gestione pubblica dei servizi, attenzione al personale, spesa sociale di competenza degli assessorati alla cittadinanza sociale e alla scuola. Predisporte il bilancio di un comune, spiega il Sindacolo Luca Orlando, è oggi un'operazione quanto mai difficile, costretti come siamo tra obblighi di accantonamento e norme che ingessano la spesa. Mentre la cosiddetta cattiva Europa ha sospeso il patto di stabilità per permettere agli Stati di far fronte all'emergenza Covid, lo Stato italiano continua ad applicarlo ai comuni, che in molti casi sono di fatto nell'impossibilità di chiudere i propri conti, assurdamente non potendo utilizzare risorse già nella loro disponibilità per un limite che l'Europa ha sospeso. Nonostante questo la Giunta, ovviamente, l'ultima parola, spetterà al Consiglio Comunale che ha fatto un'operazione certosina di verifica di tutte le spese, andando a incidere lì dove possibile, tenendo alta la priorità sulla spesa per il sociale e la scuola, per il personale e per gli investimenti e servizi ai cittadini resi dalle partecipate che consideriamo essenziali per la nostra comunità.